Triste risveglio questa mattina per gli abitanti del comune di Castellabate, il corpo di un uomo senza vita è stato ritrovato questa mattina intorno alle 6 da alcuni passanti sulla spiaggia del Pozzillo a Santa Maria. Il cadavere di Domenico Di Sessa, di anni 39, noto titolare di una struttura ricettiva del posto, il ragazzo al momento del ritrovamento aveva un boxer, una cannottiera e i calzini. Il portiere dell'albergo ha riferito agli inquirenti di aver visto uscire Domenico intorno alle 2 di questa notte, senza però fare più rientro in albergo. Si ipotizza possa essere stato un malore che lo ha colpito, ma a chiarire l'esatta dinamica dei fatti sarà ora l'autopsia. Sul posto anche il magistrato di turno e il medico legale, il quale effettuerà un primo esame esterno, presenti anche i militari della locale Capitaneria di Porto, diretti dal comandante Giulio Cimmino. Non si esclude una caduta accidentale in acqua, con un probabile annegamento. Domenico era un ragazzo conosciuto da tanti anche per il lavoro che svolgeva. Aveva frequentato le scuole nella cittadina agropolese ed era ben voluto e stimato da tanti. Bisognerà attendere l'esame esterno del corpo nelle prossime ore, che potrebbe fornire qualche dettaglio importante per capire come è morto Domenico. Intanto sui social si susseguono post di amici e conoscenti increduli per la sua morte.